Benvenuti nel centro NAIADI, io sono Laura, io sono Grazia. Il nostro centro è aperto dal 2009 con l'obiettivo di diffondere benessere. Il nostro centro promuove trattamenti sicuri, innovativi e rivoluzionari. I nostri ospiti vengono accompagnati in percorsi ricchi di attenzioni, mai lasciati soli. Sia io che Laura siamo sempre attente ai loro bisogni. Il nostro punto di orgoglio è la nostra area benessere, dove predisponiamo un ambiente molto rilassante e molto confortevole, dove ricerca e innovazione caratterizzano i nostri trattamenti benessere. Io sono specializzata in massaggi agli urvedici, mentre la mia formazione è inerente alla riflessologia plantare e medicina cinese. Le nostre competenze rendono i nostri trattamenti personalizzabili ed unici. Abbiamo scelto B&C perché per noi rappresenta un'azienda leader nel nostro settore. Io ho avuto il piacere di conoscerla, questa azienda, grazie a Laura. Me ne sono completamente innamorata perché ogni prodotto comunque mi comunica qualcosa e quindi mi sento molto sicura nel lavorare con questa azienda. Sì, i prodotti B&C rappresentano innanzitutto efficacia e sicurezza. Allora, il nostro centro prevede due ambienti diversificati. Abbiamo la parte della zona estetica, dove effettuiamo trattamenti come mani, piedi, manicure, pedicure. Tutti i trattamenti estetici. Trattamenti di epilazione definitiva con laser o con cerette di ultima innovazione. Trucchi personalizzati e ovviamente il solarium. Mentre nell'area predisposta al benessere abbiamo percorsi idroterapici in talaxoterm e massaggi. Anche perché si predispone molto bene per il benessere, di conseguenza abbiamo un ambiente molto più confortevole e consono per i trattamenti stessi. La scelta del nome Nayadi viene dal fatto che la nostra struttura offre delle apparecchiature dove lavoriamo con l'idroterapia. E le Nayadi sono ninfe di acqua dolce, di fiumi e di laghi che nell'antichità offrivano salute e benessere ai loro viandanti. E lo scopo del nostro centro, lo scopo di Nayadi, di Laura e Grazia è quello di donare un piccolo momento di serenità e benessere ai nostri viandanti.